Che desideri? Bene, te la concederò. Ma l'hai voluto tu, Siegfried. Finalmente, il grande Eivor del clan del Corvo è giunto. Sapevo sin da subito che saremmo giunti a questo. Non sono venuto per ucciderti, ma lo farò. Questa è follia! Odia! No parola! È il nostro essere! Sei quasi! Eivor! Hai voluto tu! Hai dato altra scelta! Se io tolgo la lunga notte! Toca! Io... Lo so. L'ha scelto lui. Troverai la pace nella grande sala. E quando berrai insieme a mio padre, digli della gloria che ho conquistato. nuovo per la meraviglia! Per la meraviglia... V голo! ..." Grazie. 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 Ci dava coraggio. Ma il suo fuoco vi brucia ancora dentro. Skull! Skull. Non apprezzo il vino speziato. A volte un capo deve bere anche ciò che non vorrebbe. Ho un messaggio di Odone. Che cosa vuole? Un incontro con Eivor è urgente. Crede che la regina sia in perico. Le mie spie confermano. Carlo sta cercando lei e il ragazzo. Che cosa ne pensi? Odone non mentirebbe. Se dice che è urgente devo andare. Sono in debito con la regina. Va allora. Che la fortuna ti arrida, morso di lupo. No. 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 No.